Cordovado, Cordovat in Friulano, è un comune che fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia e i cui abitanti sono detti cordovadesi. Il patrono è Sant'Andrea Apostolo, un paesaggio di quiete agreste, un espandersi delle attività e delle costruzioni che non ha deturpato la serena bellezza del centro storico. Ecco cos'è Cordovato. Tra il tagliamento e l'ivenza c'è questo piccolo angolo di pianura friulana che non rinnega la sua storia, che insegue ancora le belle acque correnti, i profumi e i colori della campagna, i tranquilli orizzonti della prateria modificati solo in parte dalla modernità. Spariti i fuochi epifanici dei celti, i fuochi fatui che apparivano nei cimiteri o nelle paludi, disperso il massariol, il rosso folletto delle stalle e dei fienili, trasformato il borgo castello, rimane un'idea di paesaggio che rimanda alle confessioni di un italiano di Ippolito Nievo, dove è citata la fontana di Venchiaredo, una campagna ottocentesca come quella vista da Angelo Menegazzi dai finestrini di uno dei primi treni che l'attraversavano, disseminata di casali e borghi, coperta di vigneti e biondeggiante di spighe, tra un serpeggiare di canali e di acque correnti che sfuma via via a perdita d'occhio sino a dileguarsi interamente nei vapori delle prossime lagune. Curtis de Vado è il nome latino che designa una corte, ossia un grande complesso agricolo posta vicino a un guado, il Vadum, sul fiume Tagliamento, per la precisione su uno dei due rami del fiume. Nel 200 a.C. la presenza romana in regione coincide con la fondazione di Aquileia. I romani bonificarono le paludi e gli acquitrini che allora coprivano l'intero territorio. Prima di loro si erano insediati i celti calati dalle Alpi Carniche che hanno lasciato in eredità i riti dei fuochi purificatori e la loro lingua alla parlata friulana. Quando nel 400 crolla l'impero romano e i barbari dilagano nella pianura, il friuli è conquistato dai visigoti nel 402, dagli ostrogoti nel 408 e dagli unni nel 452 e ovunque fu morte e distruzione. Tra il 568 e il 794 il dominio dei Longobardi lasciò profondi segni nella cultura locale, tra cui anche il nome friuli. Tra il 794 e il 954 con i franchi viene introdotto in zona il feudalesimo. Sotto l'impero carolingio invece acquisì potere il patriarcato e i vescovi divennero sempre di più, fino al 1100 e 1200, il fulcro della vita politica, amministrativa ed economica della regione. Nel 1186 Cordovado si affaccia per la prima volta alla storia in una bolla di Papa Urbano III che elenca tutti i possedimenti temporali della chiesa, ovvero 40 pievi. Nel 1276 si ha la prima esplicita citazione del castello costruito dai vescovi di Concordia. Nel 1337 dagli statuti comunali traspare come il complesso castellano sia ormai un luogo sicuro per i vescovi, tanto da essere usato periodicamente come una sorta di capitale militare e politica. Nel 1420 Cordovado passò sotto il dominio della Repubblica di Venezia e dopo secoli di violenze e sanguinose guerre civili iniziò un periodo di relativa quiete e sicurezza, a parte la peste del 1454 che ridusse il paese a un cimitero. Ma si cita invasioni di locuste, razzie dei turchi nel 1499, fame, freddo, lupi, terremoti e inondazioni del tagliamento tornarono periodicamente a tormentare la popolazione. Nel 1817 è l'anno della grande fame, conseguente alla distruzione dei raccolti da parte di alluvioni e grandinate. Infine nel 1886, grazie al sindaco e benefattore che era anche ingegnere, Cordovado ottenne la stazione ferroviaria sulla linea Porto Gruaro-Casarza.